I vostri soldi è presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera. Una cordiale buonasera, bentrovati ai vostri soldi, puntata quell'odierna dedicata alle piccole e medie imprese che sempre più spesso si vedono confrontate con i cosiddetti attacchi cibernetici, insomma attacchi informatici. Ecco, che cosa significa per un'azienda gestire questi tipi di rischi? Ne parliamo con il nostro ospite, ma prima sentiamo insieme questa testimonianza. L'azienda che siamo venuti a trovare oggi a Morbio Inferiore fornisce esperienze digitali su misura, aiutando le imprese a creare più valore per le loro attività. T-Next ha una lunga storia, nasce nel 2001 da uno spin-off di T-Net e adesso è una realtà che impiega 7 società e 75 dipendenti. Attiva dunque nel settore della digital experience e dei servizi cloud, l'azienda garantisce alle imprese un supporto nella loro trasformazione digitale, trasformazione che porta con sé, oltre a nuove opportunità, anche nuovi rischi. I rischi cibernetici devono essere gestiti ad ampio spettro, non solo attraverso le tecnologie di ultima generazione, ma anche attraverso le specializzazioni del personale e attraverso la formazione, che deve essere fatta a tutti i livelli dell'azienda, deve coinvolgere tutti gli attori coinvolti, chiunque usa il computer potrebbe essere soggetto ad un attacco. Gli attacchi informatici sono una costante, tutti dobbiamo fare i conti e costantemente riceviamo dei tentativi di attacco. L'importante è neutralizzarli sul nascere. Può succedere però che qualche messaggio email scappi ai filtri anti-spam e raggiunga le caselle del destinatario. In quel caso è importante che la persona che riceve la mail sia formata e sappia capire quando un messaggio sospetto o anomalo e quindi intervenire di conseguenza. Sempre molta prudenza dunque, ma in che modo nel corso degli anni la cybersicurezza è diventata un tema sensibile anche per le piccole e medie imprese? Fortunatamente incontriamo sempre più realtà che sono disposte a investire nella sicurezza informatica. Grazie a un lavoro fatto dai professionisti sul territorio, dall'informazione che viene fatta, le aziende hanno più consapevolezza dei rischi e quindi hanno capito anche che non è solo un problema di specialisti team, ma coinvolge tutte le linee di business dell'azienda. E noi diamo il benvenuto al nostro ospite, ringraziando naturalmente Massimo Baioni. Bentrovato, Tito Solari, come andiamo? Tutto bene, grazie. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Allora, ricordo, agente generale Elvezia, assicurazioni Lugano, Tito, le statistiche abbiamo sentito parlano chiaro, ci sono aumenti di questi tipi di attacchi, ecco, ma cosa può dirci dal suo osservatorio? Non possiamo fare altro che confermare quanto viene indicato la Confederazione, cioè che negli ultimi anni c'è stato un incremento importante di questi attacchi informatici e questo tocca tutte le regioni della Svizzera, compreso il Ticino. Siete, in che modo le piccole e medie imprese possono proteggersi dagli attacchi informatici? La cybersicurezza dovrebbe essere organizzata secondo tre misure. Sono delle misure a livello tecnico, cioè implementare degli antivirus, altri sistemi di backup, dei sistemi di firewall, dei filtri d'entrata, delle misure organizzative, cioè dar delle direttive, sensibilizzare i collaboratori sull'utilizzo dei sistemi informatici e visto che queste misure limitano i rischi ma non li possono escludere, in complemento c'è un'assicurazione per i rischi cyber. E arriviamo proprio lì. Che cos'è questo tipo di assicurazione? Viene chiamata cyberassicurazione, corretto? Esattamente. Si tratta di un'assicurazione che permette di dare una sicurezza finanziaria all'azienda per diverse tipologie di danni. Possono esserci dei danni propri, cioè i costi dovuti al ripristino del sistema, la ricostituzione dei dati, il pagamento di riscatti, un mancato utile dell'azienda, dei danni a terzi, dunque i danni RC, e dei danni giuridici con una protezione giuridica. Quindi, se non ho capito male, un'azienda è protetta in caso, insomma, se subisce un calo di fatturato a causa di danni dovuti al sistema, insomma, all'IT. E così ho capito bene? Sì, è corretto. Dunque, se un'azienda viene attaccata e a causa, per esempio, l'inaccessibilità della sua banca dati, dei suoi sistemi informatici, ha una perdita di utile, questa verrà compensata da questa polizia assicurativa, dunque dall'assicurazione. Allora, diciamo però che non tutte le stesse tipologie di aziende apparentemente, insomma, sono confrontate con problemi di natura digitale, no? Ecco, il caso, per esempio, di una società idile. Il suo punto di vista, il suo consiglio, qual è? Ci sono diverse aziende e non tutte sono esposte a questi rischi in modo analogo. Pensiamo alla società idile, una società informatica, non hanno la stessa sensibilità a questi aspetti. Però va ricordato che oggigiorno anche una ditta idile utilizza dei mezzi informatici, utilizza la comunicazione informatica, dunque la gestione dello stock, gli email, le fatture, la contabilità. Dunque un attacco informatico può toccare anche una ditta idile con conseguenze finanziarie importanti. Allora, diciamo che un attacco informatico può generare effettivamente dei grossi problemi alle piccole e medie imprese. Che consiglio si sente di dare ai telespettatori, insomma, finché, soprattutto anche i loro sistemi limiti siano davvero insomma performanti ed evitino poi i problemi. Il primo è forse quello di non sottovalutare questi rischi, sono dei rischi molto importanti e in crescita. Il secondo è quello di verificare la propria sicurezza informatica su questi tre livelli che citavo prima, dunque misure tecniche, organizzative, il complemento a una polizia assicurativa per questi rischi. E in ultimo quello di affidarsi ai professionisti non solo dal punto di vista assicurativo, ma anche quello informatico. che prevenire è meglio che curare. È proprio così. Grazie mille Tito Solari per essere tornato a trovarci. Se sull'argomento, ve lo ricordo sempre, avete delle domande, bella me la conoscete, i vostri soldi, chiocciolatelleticino.ch Settimana prossima continuiamo a parlare di assicurazioni per i giovani. Intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. I vostri soldi è stato presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera.